La Task Force 45, guidata dal capitano Enea De Santis, Raoul Bova, riesce a lasciare l'Afghanistan e arriva in Italia. La speranza di Enea è quella di trovare un modo per scagionarsi dalle ingiuste accuse mosse contro di loro. Enea però ancora non sa che un misterioso personaggio sta tramando alle loro spalle. Giunti in una radura isolata, i nostri stanno per incontrarsi con Emma Borghi, Romina Mondello, e gli agenti dell'AMIS, quando vengono inaspettatamente presi di mira da un cecchino. Enea e i suoi uomini riescono a scappare. Gemini, o Seyntaeri, è ancora con loro, mentre Samira, Megan Mondello, viene catturata dagli agenti dell'AMIS. Il sospetto che la giovane donna sia in combutta con Gemini è forte, ma Enea punto interrogativo lovesciato profondamente innamorato di lei, vuole liberarla. Solo così potrà capire quello che è successo. E forse trovare la verità sulla morte di suo padre.